E questo è l'occo e il cocco come siete stili, mamma mia, è uscita a reverse, usa la mano, avete visto il dorso è concesso per le rotazioni, poi chiudi questo freeze C'è una buona riuscite, un potecchio, un bello, un bambino, un profondo, un pello è un grande riuscente, livello che mi piace e amore. è molto bello è una cosa molto bella e ho spero che che sia inizia il top 16 o che sia inizia il top 16 e che sia inizia il top 16 e che sia inizia il momento